Chiara è all'ospedale Monaldi di Napoli da quattro mesi, il suo cuore è malato, ne aspetta un altro Bello, grazie Quindi questa sera quando è quella festa lo puoi anche indossare Codice rosso, codice rosso, via io, via voi, via tutti Oh no, c'è un amore fortissimo Maria, Maria, oh Dio Ciao 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 Ciao